Camer, ristrutturazioni di interni. Via Aldomoro 38, Sondrio. Dopo tanto lavoro fatto dietro le quinte, oggi riusciamo finalmente a partire. Quindi d'ora in avanti parlerà più che altro il campo e meno magari le vicende societarie, dove comunque penso che tutti i dirigenti, in primi sì presidente, abbiano lavorato benissimo. È l'ora di far parlare il campo. La nuova Sondrio Calcio si è radunata ieri sera alla Castellina, svolgendo il primo allenamento. Nonostante una rosa ancora da ultimare, sta iniziando a prendere forma la squadra che dal prossimo settembre affronterà la Coppa Italia e il campionato di promozione. Dieci giocatori attualmente tesserati. La società del presidente Michele Rigamonti punta tutto sulla linea verde. Io in questo momento sono molto soddisfatto perché siamo riusciti prima di tutto a riaccogliere qua tanti giovani che purtroppo avevano lasciato la squadra dopo il fallimento. E quindi secondo me è quello di un grande punto di partenza. Anche recuperare qualche ragazzo giovane che giocava fuori provincia è stata un'altrettanta vittoria secondo me. Adesso c'è ancora tempo, quindi vedremo un attimino dopo i primi allenamenti, dei primi amichevoli, di cercare magari insieme al presidente, al direttore e tutti di intervenire magari dove avremo principalmente bisogno. Milko Speziale, classe 1997, pur con la sua giovane età, è uno dei più esperti del gruppo. Per lui si tratta di un ritorno a casa. Mi ha spinto principalmente l'idea di un progetto nuovo e di rimettermi nuovamente in gioco. e soprattutto anche le persone che sono arrivate e hanno aderito a questo nuovo progetto, tra cui il mister Colombo che ha avuto nell'ultima mia esperienza qua a Sondrio, Micio Gatti e diciamo tutte le persone che contornano questo progetto. Partire da zero non è mai facile, però penso che siamo un gruppo giovane con tanta voglia di crescere e imparare e questa secondo me è la base per poter fare qualcosa di buono. Anche per il classe 2001 Arian Cilafi si tratta di un ritorno al passato. Mi ha spinto il progetto della società di cercare perlomeno di fare una squadra con tanti giocatori che vengono dalla valle. Il progetto era un progetto interessante che potevamo divertirci sicuro della nuova società Rigamonti, dunque mi ha interessato abbastanza sta cosa. Poi soprattutto gioco a Sondrio, la città dove ho fatto anche le mie giovanili, dunque sono felice di ritornare. Giocatori già molto concentrati e determinati, nel primo giorno di ritrovo si è dato ampio spazio alla preparazione fisica coordinata da Pietro Micio Gatti. Due settimane di intenso lavoro prima del primo impegno della stagione. La gara casalinga con la Colico Derviese è valida per l'andata del primo turno di Coppa Italia di promozione, che corrisponderà anche alla prima partita ufficiale della storia della nuova Sondrio Calcio. Sabato in programma invece i primi test amichevoli. I biancazzurri affronteranno in un triangolare a Gravedone ed Uniti i padroni di casa dell'Alto Lario e l'Olympic Morbegno. Nel frattempo il lavoro del direttore sportivo Alberto Meleri non si ferma, visto che sono in corso numerose trattative. Il dirigente biancazzurro sta cercando di regalare a Mr. Colombo innesti di sicura esperienza, come Marco Lassi. Vecchia conoscenza biancazzurra l'anno scorso in forza al Città di Varese in Serie D. Un altro giocatore di fuori provincia, il cui arrivo imminente, è il difensore centrale Giulio Martinelli, scuola Bari.